La Coteca è una cottura completamente diversa da quella che siete abituati a vedere nello spadellamento o anche nella cottura a vapore classica perché guardate la succosità del mar, è perfetta è piena di mare completamente un altro paio di mani è crudo ma è cotto La Coteca La Coteca La Coteca